Buongiorno a tutti, siamo dallo staff di Antenne Attive, la televisione su internet libera dei cittadini e siamo qui da Firenze e vi lanciamo un appello. L'appello è per Pino Masceri. Pino Masceri che è diventato un nostro amico, lo consideriamo il nostro migliore amico, è un testimone di giustizia che ha avuto il coraggio undici anni fa di denunciare tutte le aziende, di denunciare tutte le persone che lo ricattavano, ha denunciato l'Andrangheta, la mafia e tutti i politici che lo mettevano sotto il torchio del pizzo. È da undici anni che vive come esiliato lontano dalla Calabria, la sua regione, la sua casa natia. In questi giorni Pino ha fatto una decisione importantissima, ha lasciato la famiglia nel luogo dove è protetta e ha deciso di tornare in Calabria, senza scorta, con l'appoggio di alcuni ragazzi dello staff di Antenne Attive. Questo appello che io vi lancio, lo lancio da Firenze, per Firenze e per tutta l'Italia, è perché spero che tutti accolgano questo appello, si diano da fare in qualsiasi modo che possano. Internet praticamente sta rilanciando l'appello, rimbalzandolo da blog a blog, su YouTube, su vari canali. Io spero che ognuno di voi possa rilanciare una mail, un messaggio, parlarne con qualcuno, fare uno striscione e metterlo fuori alla finestra, parlarne a scuola, parlarne nell'ambiente di lavoro, cercare a ognuno di dare il proprio contributo per far sì che questa informazione venga rilanciata. Andate tutti sul sito di Pino, abbiamo fatto fare un blog, alcuni ragazzi degli amici Beppe Grillo li stanno seguendo un blog a Pino, che è pinomasceri.org, basta che andate su www.pinomasceri.org. Lì trovate tutte le informazioni. Se andate invece sui motori di ricerca, in un attimo basta che scrivete Pino Maceri e trovate tantissime informazioni, perché ormai la rete sta riuscendo a rompere il muro dell'informazione. I giornali non ne parlano molto, in questi 11 anni Pino è stato lasciato solo sia dai giornali che dai politici e dall'associazione civile. Abbiamo bisogno oggi che i cittadini facciano la loro parte e praticamente rilanciano questa informazione, il messaggio di una persona onesta che sta lottando per la giustizia, per l'onestà, per la democrazia. Vi ringrazio tutti, quindi andate su pinomasceri.it. Grazie a tutti.